Pesa ancora la sconfitta al San Paolo contro l'Atalanta, ma gli azzurri di Sarri si stanno preparando per il big match di domani sera allo Juventus Stadium. I tifosi partenopei però non potranno seguire la squadra nel settore ospiti. La decisione del GOS di confermare la chiusura della tribuna riservata alla tifoseria in trasferta non permetterà quindi a questi supporter di cambiare il titolo d'accesso e raggruppare i tifosi e li costringerà a seguire il match accanto ai tifosi bianconeri. Con il Napoli la Juventus giocherà con la migliore formazione possibile, ha detto Massimiliano Allegri, perché dobbiamo creare i presupposti per arrivare alla terza finale consecutiva di Coppa Italia per poi puntare al terzo successo. Il Napoli sarà molto rabbioso per la sconfitta con l'Atalanta. Per noi, ha concluso Allegri, la cosa più importante sarà non prendere gol. Grazie a tutti.